Si inizia con il botto. Parma-Piacenza sarà il match inaugurale della stagione piacentina di Lega Pro. Dunque, subito lo scontro più atteso, ovviamente dopo quello con i cugini della Cremonese. Questo è il risponso del sorteggio effettuato oggi e che ha disegnato i mini gironi di qualificazione alla seconda fase di Coppa Italia di categoria. Non è finita. Nel girone con Biancorossi e Ducali c'è anche il Pro Piacenza, per una duplice sfida del tutto inedita nell'ambito professionistico con le più blasonate contendenti. Si partirà il 7 agosto allo Stadio Tardini, orario ancora da definire quando in campo si affronteranno le compagini di Luigi Apolloni e Arnaldo Franzini. Un primo scontro che anticipa quello che verosimilmente si registrerà in campionato e che già potrebbe dire parecchio sulla reale forza degli organici allestiti dai club, seguendo filosofie diametralmente opposte. Non è mistero che i gialloblu vadano a caccia immediata della Serie B e che la campagna acquisti abbia beneficiato di un budget fuori portata. In Casa Piace si è puntato sul nucleo storico della squadra capace di annientare la concorrenza in Serie D, innestando parecchi giovani e alcuni uomini di categoria indicati con cura da Mr. Franzini. A proposito di mercato, per l'elemento mancante nel reparto arretrato arriverà uno tra Matteo Abate, si tratterebbe dunque di un ritorno per l'ex Verona e Pavia, e Leonardo Massoni, centrale della Cararese, corteggiato strenuamente anche dalla pistoiese di Mr. Remondina. Tornando però al triangolare del Ducato, il Propiacenza ospiterà al Garidi la perdente del confronto tra Parma e Piace nella seconda giornata programmata per sabato 13 agosto, mentre la sfida finale è prevista per domenica 21. Saranno invece sorteggiati l'11 agosto al Teatro Reggio di Parma i calendari dei tre gironi di Serie C che saranno svelati presumibilmente nel corso della prima settimana di agosto, una volta dipanata l'intricata matassa legata al nodo ripescaggi.